Stop alla lobby delle assicurazioni, lo chiedono i carrozzieri del sud dagli stati generali della CNA, l'associazione di categoria. La rivolta riguarda le novità che il governo vorrebbe introdurre nel settore, la riparazione in forma specifica ovvero l'obbligatorietà per gli automobilisti di rivolgersi esclusivamente ai carrozzieri di fiducia delle compagnie indicati specificatamente nel contratto e la cancellazione della cessazione del credito, il meccanismo che sinora consentiva di effettuare la riparazione dell'auto in attesa del risarcimento assicurativo. Un combinato disposto avverte il sindacato che rischia di affossare il comparto. 17 mila delle 60 mila carrozzerie italiane sono a rischio chiusura con 60 mila posti di lavoro che ballano. Per i sindacati il governo sta privilegiando la lobby delle assicurazioni, un colosso da 1,8 miliardi di euro di utili all'anno. Spieghiamo l'abolizione di questa norma specifica che promuove la forma specifica appunto nel settore RC auto solo ed esclusivamente questa è la madre di tutte le battaglie per noi. Particolarmente drammatica la situazione nel mezzogiorno. Blocchiamo i carrozzieri si blocca anche l'indotto dell'autoriparazione. Si sono verificate purtroppo delle situazioni dove qualche carrozziere si è sentito minacciato così mi è arrivato, mi è giunta voce da qualche assicuratore che o paghiamo il danno come diciamo noi o non lavori più.